Allora cari fan del mio viaggio a Torino, adesso proseguiamo il percorso di via Baltimora perché l'ho appena terminato nel video scorso ma adesso ricomincio a fare un altro video in questa zona qua perché in pratica voglio dirvi che se voi andate dritti potrete trovare in pratica un altro pezzo di via Baltimora perché in realtà quando arrivate fino a un certo punto poi viene bloccato questo passaggio perché c'è Corso Siracusa se voi poi passate Corso Siracusa ricomincia via Baltimora in cui c'è in pratica un mercato che tra l'altro è sempre stato caro già da tanti anni, già da quando ero bambino perché mi ricordo che i miei nonni mi portavano in quel mercato e anche in tanti altri mercati e mi ricordo che mi dicevano sempre che era caro, me lo dicevano anche altre persone quindi anche se io non ci vado mai praticamente però un giorno ci andrò solo ed esclusivamente proprio per farvelo vedere quindi vediamo un po' se non c'è troppa folla farò un video, se poi invece c'è troppa folla aspetterò un momento in cui sarà più tranquillo comunque magari anche se non ci saranno le bancarelle però almeno vi faccio vedere la zona dove ci sarà il mercato così che se qualcuno volesse andare da quelle parti almeno lo sa, anche se io vi consiglio di andare in altri mercati comunque vedete voi poi voi giustamente perché non posso essere io a decidere su di voi se andare oppure no e così però visto questa cosa qui che è cara giustamente dovevo dirlo perché anche se non ci vado mai però mi è stata sempre detta questa cosa qua e io adesso nel frattempo vi saluto e poi praticamente ci vediamo nei prossimi video